Ciao, sono Alberto Spatola e sono candidato al Consiglio Comunale di Genova con la lista Crivello Sindaco. Nei cinque anni passati sono stato qui a Sestriponente Cornigliano, consigliere di municipio e con l'amministrazione abbiamo raggiunto importanti obiettivi come la riqualificazione dei centri storici dei nostri quartieri. I nostri obiettivi li abbiamo raggiunti attraverso un solido lavoro di squadra ed un attento ascolto dei cittadini. Questa è l'esperienza che porto con me perché questo è che serve la politica, ascoltare e rappresentare gli abitanti dei nostri quartieri. E a Sestriponente Cornigliano c'è una tradizione di associazione, di lavoro che non va persa. Io la voglio rappresentare. E da Sestriponente e Cornigliano che bisogna iniziare a ricucirla a città. Qui c'è il futuro di Genova. Erzelle, ribaltamento a mare, aeroporto, qui nuove generazioni di genovesi si incontrano e si incontreranno. Tutto ciò deve diventare un'opportunità per tutti, un'opportunità di lavoro. E questo è quel che voglio fare, questo è ciò che voglio rappresentare in Consiglio Comunale. Per rappresentare il tuo quartiere, per far ascoltare la tua voce, l'11 giugno dalle 7 alle 23 prendi la scheda azzurra per il Comune, metti una croce sulla lista Crivello e scrivi Alberto Spatola. Buon voto. Grazie. Grazie.